Buongiorno! Oggi poche, ma mi sembrano interessanti, forse mi sono svegliato un po' tardi, quindi se mi sono perso qualche cosa, aggiornatemi, grazie mille. Comunque, Google Hotel Booking gratis, praticamente c'è la parte di booking di Google per gli hotel a pagamento, una specie di, immaginiamoci, il Merchant Center dedicato agli hotel, come nel Merchant Center dei prodotti, è arrivata la parte gratuita, arriva anche qui, una forma di free listing che non sostituirà la parte a pagamento, ma la integrerà, sicuramente una cosa molto interessante, da cui possono nascere mille riflessioni su come Google voglia gestire veramente un sacco di roba anche in questo settore, è molto interessante. Sempre Google, un metodo predittivo per scovare gli URL duplicati, praticamente questo algoritmo chiede a quel che ho capito, va a vedere quanto si assomigliano anche gli URL, insomma, però è una prossima interessante. Google Shopping CSS, come utilizzarli al meglio? Una bella guida, davvero, se ne trova poche di guide su questi argomenti fatte bene, e questa mi sembra molto interessante, ci sono spunti sicuramente da considerare. Google Analytics 4, esclusione dei referral, per fortuna, perché senza diventi pazzo, e tra l'altro è una cosa su cui stare molto attenti, anche su 3 lo ha, perché si trovano tantissimi siti dove l'analytics non ha una buona gestione dell'esclusione dei referral e quindi tracciamenti, ciao, arrivederci e grazie. Però è una cosa veramente carina. Poi, c'è stato forse un update questo fine settimana, un po' di rumors, cosine curiosi da leggere. Statistiche e commerce per il 2021, anche questa è una bella risorsa che vale una lettura, insomma, un po' di riflessione. E poi, Facebook Ser, non lo conoscevo nemmeno, praticamente è un nuovo algoritmo, una nuova forma di intelligenza artificiale che Facebook usa per interpretare le immagini e capire quindi che cosa contengono. Non lo so, così lo spiego malissimo, però è una cosa che devo finire di leggere, però mi sembra davvero interessante. E infine, cos'è la Cecilia? La Cecilia è un coso, come cavolo si chiama? Un anfibio. No, gli anfibio di solito a noi si pensa alle salamandre o alle ranere, ospi, no? Quei due figli, un come si dice, boh. E invece ci sono anche le Cecilia che sembrano tipo dei lombrichi, quindi a tutti gli effetti uno diceva un lombrichi, un c'ha le gambe, non c'è nulla. Però è un anfibio con un pormone solo, funzionale, insomma, è un po' curioso. Però fanno una cosa divertentissima, praticamente non prendono il latte come facciamo noi i mammiferi, ma mangiano la pelle della mamma che produce la pelle apposta, oppure alcune specie tipo l'interno dell'utero produce uno strato in più di pelle che da dentro il cucciolo si mangia, è una cosa un po' strana. Vi ho messo il link, andatelo a guardare, è curioso. Buona giornata, ciao!